È sempre importante avere risultati, i risultati positivi sempre danno questo stimolo ma anche una spinta per migliorare e per dare di più perché dopo anche questi impegni, questi risultati arrivano anche praticamente da soli. Close non ci sono vice o terzo o quarto, ci sono giocatori che in questo momento sono pronti da giocare e dare tutto per la squadra, in momento Close come si presenta sia fisicamente sia mentalmente è il nostro punto di riferimento ma se salterà Close o se in futuro deve saltare sicuramente ci sono altri giocatori che fanno bella figura e che riescono a coprire questo ruolo. Ma per questa partita è approccio mentale, io aspetto alla squadra di avere questo approccio che ha avuto anche ultimamente. In Bergamo c'era una piccola scusa che siamo arrivati dopo un periodo un po' così così e è normale che la squadra un po' valuta anche le proprie risorse e gioca un po' con freno al mano ma domani è aspetto da primo secondo e per 90 minuti una vera l'azione.